Consigliere Guadagno, due temi caldi sottolineati dal gruppo Idea Comune che lei rappresenta in Consiglio Comunale. Il primo, la viabilità. A Mercato San Severino c'è un grosso interrogativo sul dispositivo di chiusura del corso. Su questo argomento avete deciso di incontrare la cittadinanza. Sì, nei prossimi giorni incontreremo nelle piazze sanseverinesi i cittadini, soprattutto gli amici dei comitati spontanei per la viabilità a Mercato San Severino. In modo concreto e dinamico faremo anche delle proposte, come avevamo già detto e concretamente realizzato in campagna elettorale. Sul piano programmatico siamo pronti anche a mettere a disposizione dei nostri collaboratori per supplire a mancanze storiche, ataviche, che a Mercato San Severino riguardano nella fattispecie la viabilità del centro, corso e le strade periferiche. Rispetto invece ad un'altra problematica che è stata evidenziata da uno degli iscritti, Luciano Caruso, che è stato tra l'altro rappresentante di Idea Comune nelle scorse amministrative. Un problema legato al decoro urbano, potremmo dire così, alla gestione soprattutto del territorio. Le immagini che stiamo vedendo in sovraimpressione si riferiscono alla frazione Spiano. Sì, le immagini in questo caso parlano chiaro. Io ringrazio la cittadinanza di Spiano e anche delle altre frazioni come Priscoli, Torello, di Carifi. Hanno avuto veramente fiducia nei confronti di Idea Comune, di Carlo Guadagno e anche dell'amico Luciano Caruso, che è stato un nostro candidato. Luciano è andato sul posto, ha filmato questi anomali sostanziamenti e francamente inefficienti richiami della collettività. Ritengo doveroso sottolineare che la comunità di Mercato San Serino è una comunità complessa, perché vive in 22 frazioni. Mercato San Serino non è soltanto il centro. Il centro è il nostro bigliettino da visita. Però le frazioni hanno una propria dignità da tutelare e l'amministrazione comunale deve essere capace di pianificare, soprattutto sul piano ambientale. Perché l'anomalia strutturale di Mercato San Serino oggi più che mai riguarda l'impatto ambientale. Ci sono frazioni che vivono nel disagio continuo. Le segnalazioni riguardano naturalmente i corsi dei fiumi, come ad esempio il Sarno, la fluente Solofrana, Pandola, Mercato San Serino centro, la zona del ponte. Per quanto riguarda il Solofrana, l'aria al centro di San Severino, noi stiamo chiedendo un monitoraggio del sottosolofrana. Cioè tutto il trincerone che abbraccia il centro di Mercato San Serino, secondo il nostro parere, va monitorato soprattutto sotto. Perché sono anni che naturalmente noi vediamo e registriamo anomalie anche per quanto riguarda l'impatto ambientale. Registrato da qualche amico, esperto della materia, dice esattamente che San Severino è a rischio. Il problema esiste soprattutto nelle frazioni a valle, come ad esempio Sant'Angelo, Piazza del Galdo. E naturalmente non escludiamo un impegno da parte di Luciano Caruso e di idea comune come coordinamento di operare da qui a qualche settimana anche un controllo straordinario con degli esperti di lega ambiente. Questo lo diciamo perché noi non abbassiamo la guardia. Certamente stare all'opposizione significa soprattutto segnalare. Siamo disposti in modo concreto e in modo anche chiaro, mantenendo la nostra posizione di minoranza consigliare, a collaborare con l'amministrazione comunale perché l'ambiente viene prima di tutto. Il problema del processo di rientegro per quanto riguarda la zona del centro cittadino è un problema che intacca 9.000-10.000 persone. Il problema ambientale riguarda un bacino d'utenza che va al di là dei confini comunali. Quindi noi dobbiamo mettere al centro il problema ambientale che si trasferisce da qui a breve in un convegno che terremo con un docente dell'Università degli Studi di Fisciano.